ben ritrovati signori carissimi siamo baroncelli siamo acquarrata nel nostro punto vendita che rimane aperto dal lunedì dal martedì mattina al sabato tutti i giorni la domenica solo il pomeriggio dalle 15 e 30 alle 20 ricordate che noi abbiamo un grandissimo assortimento di tappeti si possono spendere le cifre più varie in tutte le misure dal moderno di grande tendenza al classico all'antico e alle vecchie manifatture allora un tappeto nelle abitazioni negli uffici dove uno desidera io dico sempre che un 70 per cento dell'arredamento è guardate provate se avete un ambiente pieno di tappeti a levarli a toglierli e vi renderete conto che l'ambiente spoglio poi anche in questi periodi di cerimonie comunione e cresime matrimonio insomma voglio dire regalare un bel tappeto rimane anche un bel ricordo nel tempo allora io descrivole la carrellata che ho preparato sulla quale abbiamo fatto dei forti sconti il primo è un ardebio persiano con l'interno di seta pura naturale che sarebbe la parte aranciata che vedete è tutto di seta la misura 2 metri per 2 metri e in promozione lo diamo a 1250 euro ci sono naturalmente anche altri colori sempre di 2 metri e per 2 metri perché il quadrato insomma non è così facile come sembra quando venite da noi che a furia di cercare abbiamo trovato una ventina ma fa parte di una grande ricerca il quadrato ecco poi abbiamo tantissimi tappeti persiani della vecchia manifattura questo per esempio un borgialo che è un rosso brillante ci sono anche a colori più spenti o più colorati in maniera magari c'è il turchese l'azzurro altri punti di colore ma il borgialo un tappeto persiano di un metro e novanta di lunghezza un metro e trenta di larghezza quasi due metri si presta anche all'ingresso questa lunghezza qui un metro e trenta di larghezza che diamo a 280 euro noi facciamo scegliere ci sono anche più larghi di questo però uno si sceglie e prende quello che vuole ora state vedendo un tappeto spettacolare allora roberto per favore fa un'inquadratura perfetta perché questo è sempre stato uno dei tappeti che io ho amato di più è un cupola 160 è la larghezza 2 metri e 15 è la lunghezza è bellissimo gli possiamo avvicinare i tessuti che vogliamo qui si può avvicinare dal nero all'azzurro al turchese al rosa al rosso verde in varie gradazioni di colore scusatemi grigio ci sono tutti i colori è bellissimo dal vivo è stupendo tutto l'anacor che chiaramente è seta allora per questo cupola in promozione noi chiediamo soltanto 3600 euro è un pagamento dilazionato poi abbiamo la misura anche più grande più grande più grande ancora e così via però se qualcuno trova troppo alto quell'importo abbiamo dei tappeti che sono quasi due per tre perché questo per esempio è largo un metro e 90 lungo 2 e 75 che diamo ad 890 euro vedete come si spazia da baroncelli si può spendere più o meno dipende ovviamente da quello che uno prende se certo se piace un isfaga è un pezzo antichissimo non può pagarlo come un pakistano di ora fatto di ora è chiaro no in tutte le cose poi vorrei andare avanti perché voglio far vedere tappeti moderni questi ragazzi vogliono tappeti moderni allora tappeto moderno due metri largo un metro e 53 450 euro ora i nostri sono fatto a mano e ci hanno il certificato d'identicità non sono pezzi di mochette meccanici bordati e o di quelli con fatti con te light un sacco la spola e va avanti e indietro qui se si tira un filo si rispetto a pedo perché è fatto a mano ripeto e sottolineo due metri largo un metro e 53 4 e 50 poi vorrei andare ad un tabriz noi siamo aperti ve l'ho detto e lo ripeto dal martedì mattina al sabato tutti i giorni e anche la domenica solo il pomeriggio dalle 15 e 30 alle 20 chi è libero solo di domenica cerchi di venire con sollecitudine perché poi chiuderemo la domenica rimarremo ovviamente aperti gli altri giorni e poi agosto si chiude tutto il messo in noi baroncelli state vedendo un tabriz e tra l'altro a fondo rosa e coi bordo nero e avorio esterno che è bellissimo la vivo è raffinatissimo con tantissimo voglio nell'interno insomma a me piace tanto un tabriz così che io so anche la difficoltà che ho fatto per trovarlo con questi colori nella misura pardè vale a dire largo un metro e sessanta e lungo 250 e lo sto regalando perché lo diamo a 2200 euro chi sta vicino a tappeti persiani e ste cifre le deve mettere un po e deve pensare di spendere se no è inutile allora ora sto dando un tabù serenacar di seta bellissimo tutto di seta hanno dato sul cotone ovviamente però la parte che vedete all'infuori delle cimose che l'ordito è in cotone è tutta seta pura e questi li diamo ad 890 euro un metro e 52 larghezza 95 890 euro per cui se li volete mettere nella stanza dal letto in un bagno dove volete ci sono però noi abbiamo anche tappeti moderni meravigliosi ecco per favore inquadratemi questo allora ditemi voi se è un tappeto che vedete ovunque io in televisione avendo pochi minuti faccio sempre vedere qualcosa che può piacere hanno un numero sempre più alto di persone questo è un moderno stupendo il moderno a questi livelli piace molto anche a me allora 3 45 la lunghezza 2 60 la larghezza 3400 euro signori ricordate che da baroncelli c'è di tutto se venite con calma se no veniamo noi nelle vostre abitazioni facciamo scegliere sul posto potete fare il pagamento tranquillo tutto ciò che desiderate anche restaurarli e lavarli se avete bisogno vi saluto vi ringrazio vi aspetto